Sono state determinanti le testimonianze dei dipendenti del locale e le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito agli uomini della squadra mobile della Questura di Pescara di identificare ed arrestare i quattro ex pugili autori di un'aggressione commessa lo scorso primo di settembre nei confronti degli addetti alla sicurezza del locale Grun della centralissima via Cesare Battisti. La lite è scoppiata le due di notte quando a ridosso dell'orario di chiusura i quattro si sono palesati alle porte del locale per entrare a bere in evidente stato di ebrezza. Dopo una prima discussione con la sorveglianza il titolare ha consentito affinché entrassero. Una volta avuto l'ok alcuni dei giovani hanno aggredito a pugni l'addetto alla sicurezza un 45enne di nazionalità albanese colpendolo ripetutamente anche a terra. Ad essere aggredito è stato anche un altro addetto alla vigilanza del locale. Ad avere la peggio però è stato proprio il 45enne albanese per il quale è stata necessaria un'operazione chirurgica per la riduzione di una frattura al dito. I quattro devono rispondere di lesioni volontarie gravi e resistenza a personale di pubblico servizio. L'episodio non è l'unico atto di violenza che si è verificato nella zona della Movida in centro a Pescara dove i residenti chiedono maggiore sicurezza. La presenza della polizia è costante. Certo non si può essere dappertutto e le cose accadono, succedono. Quando non ci siamo e non riusciamo a prevenire poi siamo costretti ad intervenire in una fase successiva come questa che è quella della risposta repressiva che è sempre tardiva e ci si auspica che non debba arrivare mai ma le cose stanno diversamente.